Si ferma a 17 vittorie consecutive la marcia da record della squadra trapanese. Ieri sera, nell'anticipo della prima giornata della formula d'orologio, la squadra di coach parente non è riuscita a spuntarla di fronte ad una squadra, Cividale, che ha avuto più energia e più precisione. De Bacl ha i liberi per i Granata e troppi errori al tiro. Le due squadre rimangono in equilibrio quasi fino alla fine, con Trapani che vanifica il vantaggio di 9 lunghezze a favore di Cividale che sul finale piazza la zampata del più 5, 73 a 68 il finale. Nota dolente, lo stop d'Imbro, il play sarà sottoposto ad accertamenti per evidenziare l'entità dell'infortunio a corso ieri sera nelle prime battute del match. Una sconfitta, quella di ieri, che non può e non deve in alcun modo sporcare il cammino sontuoso degli Shark, alle prese con un momento delicato che necessita della vicinanza di tutti, come evidenziato dalla nota di Ramata al termine della partita dal presidente Antonini, che chiama raccolte tifosi per la sfida casalinga di sabato prossimo con Verona. Ascoltiamo l'analisi di coach parente nel post partita. Complimenti a Cividale, a Pila, allo staff tecnico, ai loro giocatori. Complimenti a tutto l'ambiente, non ce l'ho mai stato. Complimenti davvero a tutta l'organizzazione. Niente, hanno sicuramente, credo che non ci siano dubbi, che abbiano meritato la vittoria. C'era un livello di energia diverso in campo, si è notato subito. Nonostante all'intervallo siamo andati avanti, nonostante avevamo fatto un piccolo break. Il livello di concentrazione è diverso tra le squadre. Abbiamo sbagliato troppi appoggi da sotto. Non siamo riusciti a buttare fuori la palla quando loro si chiudevano con la giusta fluidità. Poca disciplina sia in attacco che in difesa nei momenti chiave. Alla fine, associato alle percentuali di tiro, che ovviamente fai fatica a vincere con chiunque, con quelle percentuali di tiro, direi che la sconfitta sia una conseguenza naturale. Grazie a tutti.